L'evento di oggi ha secondo me una rilevanza fondamentale perché affronta dei temi di non soltanto diagnostica, valutazione, ma di prevenzione in sostanza di tutto quello che ruota attraverso la patologia, delle patologie che attualmente coinvolge una fetta di popolazione molto molto ampia, soprattutto nei paesi cosiddetti industrializzati occidentali, che è il diabete mellito. Per quanto riguarda l'aspetto di questo evento direi che la partecipazione di una popolazione mista, quindi di una popolazione di operatori della salute e di utenti generici è fondamentale perché così si mettono a confronto non solo le idee ma si danno spunti di riflessione. In ambito cardiovascolare in particolare è estremamente importante capire che la salute cardiovascolare è un bene prezioso che va mantenuto e manutenuto ed avere la consapevolezza che le malattie cardiovascolari colpiscono prevalentemente il genere femminile rispetto al genere maschile. Questo dato che è noto ormai da diversi anni però non è abbastanza diffuso e non vi è la consapevolezza di questo. Capire questa problematica fa sì che si comprenda meglio l'importanza di mettere in opera tutti i presidi che abbiamo attualmente a disposizione di prevenzione in ambito cardiovascolare. Quindi soprattutto l'adozione di stili di vita più fisiologici, un'alimentazione corretta, un'attività fisica regolare che non è necessariamente la palestra al termine di una giornata di stanchezza estrema ma attività fisica regolare che significa fare le scale più possibile, passeggiare in pianura lontano dai passi più possibile. Quindi capire che anche piccole cose nel quotidiano possono aiutare in prevenzione cardiovascolare a migliorare la salute dell'individuo. Grazie